Ma no, ci hai detto che oggi facevi la notte, scusa a parte, ma che voto è, scusa? Devo ringraziare la Popi Popi, Alan e De Robertis che in questo momento sono in tribunale a difendere lo Zodi 100G. Grandi! E ogni giorno ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Ecco, è la prima volta che hai sconvolto la vita, in quella macchina se vanno. Le mani al cielo! E so che mi perderò in questa fantasia, la voglia matta di sprucciare e cantare via. Dai, tutti insieme, bambini, dai! Se ti ascolto già so che mi fermerò perché sai già cosa voglio. Viva le tette mosce! Mi fai sognare ogni giorno. Dai, tutti insieme, figli di puttana, dai! Lo siamo! Lo so, fuori però. Quando ridi con noi, sempre nei torni tuoi. Com'è bello sognare e volare se vuoi. Noi siamo l'anno. Lo so di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Sputta! E no, fermo, stop, 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 eh no, eh no, eh no, eh no, Paolo, 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 adesso io capisco che tu vuoi cercare di sistemare la tua immagine, quindi vuoi essere volgare. Ma il signore, dai, 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 come stimmi e poco, dai. No, ma io non ho detto è Spain che usa i messaggi vocali. Riproviamo base pronti, tre, due, uno, allegria! Sì, scatana! Sì, scatana! Eh no, ancora. Sì, scatana, scatana. Puttana hai detto. Ma no, ma tu hai capito male perché sei inglese. Hai capito? No, no. No, no, è proprio vergognoso e volgarissimo. Ho detto Big Terras. Ho detto Big Terras. Ho detto Big Terras. Ho detto che siamo un programma diseducativo. Dai, ricominciamo, via, dai! Buongiorno! Zoccola! Eh vabbè, dobbiamo iniziare così Lui ha detto Zoccola, che è una variante della Pepsi Hanno ragione in tribunale a giudicarci e a mandarci in galera Soltanto te, tra parentesi, bravo Io e un'altra persona, tra l'altro, comunque, lascia stare Va bene, dai, cominciamo il programma, dai! Scusa, perché io vorrei leggere i messaggi che ci mandava Alan Caligiuri mentre era in tribunale Questa volta lui a difendere lo zoo, diciamo, testimoniavo Pensa a te Dice, qua Tony Accesi, l'avvocato della persona che ci ha denunciato ha preso a schiaffi di Roberto Ma non è possibile Ma poi chi è questo Tony Accesi? Chi lo conosce? Non lavora a 105 Poi la Poppy Poppy mi scrive, ammazza, il PM e il giudice, sono due iene Poi mi scrive, ti vogliono morto Marco, non c'è un cazzo da fare Io rispondo, beh grazie ragazzi, belle notizie prima della diretta, fanno bene Ma no, dai, scherzo, sei al primo appello, al secondo stravincete Quindi loro sono a Brescia a testimoniare il processo con Rossella Roma, giusto? Giusto Marco, vero? Sì, sì, sì Più o meno, più o meno Sono Zenomi Sirizio Anche perché tu non è inutile che parli Fabio, perché io e te e quell'altro testa di minchia a Miami Ce n'abbiamo un altro di casino con un'altra persona che tu hai chiamato in un modo brutto E anche Marco però, eh No, io no, io ripetevo quello che dicevi tu Eh sì, è proprio Zio Pappagalli Che scarica parire di merda Che schifo Fai schifo anche a 6.000 km Ma questo è per far capire agli ascoltatori che non è tutto rose e fiori Non è tutto oro, quello che luccica Noi ogni giorno dobbiamo affrontare questi brutti momenti Non è tutta merda quella che puzza, diciamo Ma poi ricordiamo che tante mosche non possono essere così coglioni Se mangiano tanta merda vuol dire che forse la merda è buona Beh, detto questo Filosofia proprio spicciolissima, eh Va per dire No, è per far capire agli ascoltatori che noi purtroppo ogni giorno dobbiamo affrontare persone che non hanno il senso dell'umorismo E non accettano il fatto che noi scherziamo, giochiamo, siamo dei simpaticoni C'è un claimer grosso così, prima di mettere la sigla Che dice che quello che diciamo è tutto frutto della fantasia malata del nostro cervello Perché ve la prendete? Esatto, ma anche perché, Marco, diciamo l'obiettivamento Dietro delle volgarità si possono nascondere anche dei contenuti Come ad esempio nelle storie dei film porno Nei porno, la superficie della trama è sempre quello, no? Però se vai in profondità ci sono dei significati da scoprire C'è gente che scrive con una mano mentre con l'altra Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo tolto quelle parole volgari che ci sono sempre in questi film porno Abbiamo levato quelle scene eccessive E abbiamo ottenuto soltanto il dialogo, quello puro, quello vero E voi vedrete che in questa puntata avrete un ripensamento sui film porno Anima, c'è anima Sì, il film porno è educativo in fondo Perché poi, ricordiamolo, ficcare il cazzo in una prendita Al centro del film porno c'è un cuore